Cari amici, parliamo purtroppo di sogni esvaniti, la sconvitta ottenuta contro la Sarnese ha fatto rimettere nel cassetto la possibilità che la Casertana potesse raggiungere la vetta della classifica, già il pareggio di Grottaglia aveva un po' raffreddato gli animi, poi i primi 45 minuti anche se il rigore concesso dall'Albio negli ultimi minuti del primo tempo aveva un po' riaperto le speranze ma già il modo in cui la Sarnese aveva messo a segno i suoi due gol, il modo in cui teneva il campo davano poche illusioni, io a dire il vero era, l'ho rivista e rivista per televisione forse se Maiella a quel tiro di test avesse centrato la porta e non il palo potesse che la Casertana avrebbe fatto una partita diversa, una partita che le poteva permettere di giocarsela fino alla fine, io non sono affatto d'accordo che non abbiamo avuto nella propria area, nella ripresa, i lanci lunghi hanno fatto sì che il baricentro della Sarnese a retrasse perché noi non giocavamo, non tentavamo di portare palle, di impostare azioni di gioco, noi con la nostra difesa effettuavamo dei lanci lunghi alla ricerca delle nostre punti, automaticamente il baricentro della Sarnese doveva per forza di cosa effettuando la Casertana, queste palle lunghe che non hanno sortito niente perché alla fine tolto qualche cross dopo non abbiamo neanche approfittato di due o tre uscite a vuote del portiere della Sarnese, diciamo che è stata una domenica storta, una domenica che ha fatto sì che quando non si programma un campionato vincente alla fine giochi sugli sprazzi, sulla forza d'animo di qualche elemento e anche di più elementi ma poi alla fine vai a pagare le conseguenze quando incontro di squadre organizzate che già all'inizio del campionato hanno programmato non solo di vincere ma perlomeno di tentare di vincere, la Sarnese è uno di questi che non dimentichiamoci è una neopromossa perché veniva, ha vinto i playoff l'anno scorso e domani se recupera nella partita di recupero con la Turis, batte la Turis, rientra a pieno titolo, va a un punto dal Martini a due dall'Ischia pensando che deve giocare a Ischia dove si va a giocare realmente il campionato e quest'anno ha la forza la Sarnese di poter centrare anche lei l'obiettivo, voi dite la Caseltana, ragazzi la Caseltana quando non si programma difficilmente si vincono i campionati, è il secondo anno che partiamo, l'anno scorso partiamo con un programma proprio alla grande con ottimi calciatori e poi piano piano ci siamo fermati per la Stato, quest'anno siamo partiti in sordine e poi abbiamo tentato di rafforzare la squadra che significa che il programma di quest'estate basta vedere, la vorrei ricordare ai diffusi che hanno poco a memoria per chi si segue, andate a vedere la formazione che è andata a giocare ad Alessandria, giocava Giglio in avanti, non avevamo né Maella né Cortese, non avevamo neanche un altro attaccante che potesse sostituire Giglio, cosa voglio dire? Che se tu avessi rafforzato la squadra, si è fatta una squadra forte e con la crisi che c'era all'Alessandria, basta dire il campionato che sta facendo adesso, potevi tentare di vincere quella partita, andavi a giocare dopo a Marassi con la Sampatoria, l'incasso si divideva e dire anche che con la trasferta la squadra l'ha fatta in autobus, questo vi dico solo questo, chi ha poca memoria si vada a rileggere le croniche di quel periodo e poi vedrà se noi stiamo contro la Casertano o se invece cerchiamo solo di dire la nostra per cercare realmente di puntare a vincere il campionato, noi siamo amanti della verità e se qualcuno ci vuole smentire ci porta le carte e ci dica che noi abbiamo detto cose non vere e abbiamo affermato il falso, noi siamo convinti che se si fa una programmazione seria, se si prende un direttore sportivo di campo, di uno che sta a fare questa cosa, la Casertano possa e deve giocarsi, perché il pubblico che è a Caserta, anche se questo è un discorso che ormai nessuno vuole più affrontare, ma diciamo chiaramente che la grossa massa del pubblico di Casertano ha abbandonato la squadra e nessuno si chiede il perché, io credo che se la tifoseria, la vecchia tifoseria, la nuova generazione, saprà che c'è un programma vincente con uomini di calcio, con uomini che hanno vinto campionati in altre società, ritornerà in massa allo Stato, io mi auguro che questo avvenga già dal prossimo anno con una programmazione seria e vincente.